queste sono le polpette che facciamo noi con tre tipi di carne macinata carne di buono adulto scelto maiale e pollo impastiamo queste tre carni mettiamo in mezzo del pane ammorbidito nel latte del prezzemolo dell'aglio un po' di sale un po' di pepe noce moscata e andiamo poi a passare sul pan grattato e le piggiamo dietro di me è la mamma che sta impiattando tre stringozi al rancetto il rancetto è una sorta di matriciana ma preventivamente il guanciale viene sgrassato tolto dalla patella e posto all'ultimo sopra la pasta adesso vi faremo vedere come quindi ripartiamo dal rancetto